Acquistano un gadget in un negozio a Battipaglia con 50 euro contraffatti. Neguai, un 36enne di origine calabrese e una 33enne battipagliese. L'uomo e la donna, che hanno fatto acquisti in un negozio di gadget e articoli da regalo nel centro, facendo poi perdere le proprie tracce per le vie della città, sono stati prontamente rintracciati dagli agenti della Polizia di Stato, anche grazie alla testimonianza della commerciante frodata e alle immagini rilevate dal sistema di videosorveglianza, mentre si allontanavano lungo via Mazzini. L'uomo, sottoposto a controllo da parte della Polizia, ha consegnato spontaneamente il proprio portafogli con dentro altre quattro banconote da 50 euro, risultate contraffatte. Il 36enne ha ammesso di aver dato al titolare del negozio una banconota da 50 euro. Per acquistare un poster di pochi euro, ricevendone poi il resto. Denuncia scattata per entrambi.